Siamo a Crapolla, prima uscita nella fase 2 o 3, che fase è qua? 2 o 3? Posso stare anche senza mascherina, siamo solo noi, ma partiamo dall'inizio di questa storia. Prima uscita post pandemia e siamo senza mascherina perché siamo io e lei. Scendiamo verso Crapolla, ci siamo già stati qualche anno fa. Dovrebbero essere circa 700 scalini per arrivare giù. Io poi mi ricordo che a un certo punto c'è anche una chiesetta con un Gesù di legno. Avete presente tutta la storia del calabrone che per la sua natura non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ecco, più o meno allo stesso modo io credo di avere una certa età e certe cose non le posso più fare. Ma io questa cosa non la so e la faccio lo stesso. Se avete capito, ginocchia infiammata, mal di schiena, si fatta così. Però nonostante questo, tutto ciò mi mancava molto. Grazie a tutti. Ci riposiamo e tra un po' dobbiamo ritornare. Qualcuno ha buttato una Olivetti lettera 52. Sembra solo sporca. Ce la stiamo portando? Sì, ce la stiamo portando.